io vado avanti un po' a dar supporto mano avvazzata, devo spuntare... chissi c'è un Ft che mi viene a posto ma come cazzo? sparan tra di cuore ma anche tu? è l'alzante bello, è veramente bello gli meccanici e anche i carichi che fanno dai che provo a spuntare col veicolo leggero oh, un BT-7 dove? davanti a me è sparito artiglieria, attento perchè ci sono ben tre artiglieri ne hanno distrutto uno, hanno distrutto un pazzalier ci stanno andando avanti di qua io non avanzare, non avanzare troppo mamma mia quella che mi stai tirando eh, sono tutti nel fianco tuo eccoli lì, eccoli lì eh... sei avanzato troppo, cazzo ho treni a me ma dai, sono troppo sono tutti lì, sono vado a cercarmeli sono vado alla tappa ah fuck ne sono trovati tre intorno ne hanno da solo ma praticamente sì non vedo che c'era un altro che stava guardate qua 37 un altro ok ok, è perso sta battaglia mi sembra mi suona tanto, madre cazzo c'è un panzeriega nooo ehi, ehi guarda, sto muore di come è merda dai, vuoi vuoi, vuoi sperimentare il mio 30 mm da vicino 20 mm da vicino sto al sacco uuuuuh mi ha poso, vada quello là nooo, quello ne mi stupra nooo nooo eeeh cazzo, guarda dai pezzo di merda sono piccolo ma sono resistente sempre più che altro, finchè c'è il BT-7 che nessuno mi compra no, vado a prendere vado a prendere il cacciacari sulla destra ma qui che sulla destra c'è un carro si, lo so, la destra non c'è un carro ma qui che sulla destra c'è un carro no, è un cacciacario ma cosa è solo quello che fa? scusate mi sono messo male adesso, bro ma perchè quello è andato all'attacco? cosa è morire? ma che cazzo fa? ce n'è un altro con fuoco sul fianco mio è solo che adesso sono rallentato ci morì danneggiato c'è ziggolo ma stiamo vincendo? dovresti vincere la costa c'è? ecco lì non mi vediamo che vince troppo dove andrà? uuuh cazzo ma no come cazzo fa? ma testa di merda quel tipo ma non c'è nessuno che gli può sparare dai strozzo di merda incredibile dai adesso dai manca l'ultimo e lo vinciamo dai dai avanti dai io ho metà vita sono un panzer 2G tu sei un panzer 2 normale vuoi vedere chi la vince ragazzo? qualcuno con i coglioni diventano un po' vicino c'è qualcosa di brutto di muove di millimetri e adesso ragazzo cosa verrai a medirmi? ci mori male ahhh magari se lo ammazza qualcuno dai dai secco ci ho fatto la partita praticamente si non c'è non c'è non c'è ma non c'è